Alleluia, Padre Santo ti rendiamo grazia per questa giornata, sia benedetto e l'ho dato il tuo nome, oggi daremo gloria al tuo santo nome, perché tu sei buono, tu sei santo e meraviglioso, tu sei degno della lode, dell'onore e della maestà, tu sei Dio, tu sei il creatore e tu sei il Padre e noi siamo i tuoi figli e come Dio noi siamo i tuoi adoratori, i tuoi servi e come creatore noi siamo la tua creatura, la opera delle tue mani, la tua volontà è su di noi e la terra, tutta la terra glorifica il tuo nome, tutto il creato, ogni creatura glorifica il tuo nome, sia in cielo che sulla terra, fra i viventi, perché i viventi possono lodare, possono servirte, i morti non la sanno, ma i viventi lodano l'eterno, alleluia, ti preghiamo per i tuoi uti, per i tuoi servi, Signore, in ogni parte del mondo e in questo luogo, per ogni fratello e sorella, per il tuo popolo, che il tuo spirito santo, Signore, copra il tuo luogo, riempia, Signore, ognuno di noi, perché questo corpo è il tempio del tuo spirito e questo è il tuo vero tempo, il tuo vero tempio, questa è la vera Chiesa, Signore, è l'essere umano, la creatura, il tuo figlio, i tuoi servi, il tuo popolo del vero tempio, Padre santo, siano dato il tuo nome, benedice le labbra di quelli che predicheranno, di quelli che lo deranno, benedice, Signore, ognuno gli ha il cuore, affinché siano predisposti a ricevere la tua parola, affinché la tua parola venga, entra nel nostro cuore e rimanga lì, non cada per terra, Signore, santifica il tuo popolo, affinché il tuo popolo ti possa santificare, purificaci, Signore, con tuo spirito santo, alleluia, e che il tuo nome sia conosciuto, che noi siamo conoscitori della tua volontà, che noi impariamo a amarti come tu ci hai amato, Signore, preserva questa umanità, preserva, Signore, il tuo popolo, a quelli che sono tuoi, che nessuno si perda, e tutti quelli, Signore, anche gli nemici, siano convertiti al tuo santo nome, alleluia, alleluia, Padre, tutti quelli, tutti quelli che sono in opposizione per inganno, perché non sanno, Signore, perché sono nelle tenebre, tu sei la luce, venga la luce, Signore, venga la luce per dissipare le tenebre, alleluia, fai miracoli in noi, fai miracoli attraverso di noi, tu puoi aprire gli occhi, Signore, dare un dito al sordo, la parola al mondo, far camminare i paralitici, come lo hai fatto sempre, Signore, perché tu sei il creatore, morire di ogni malattia, infermità, dolori, sofferenza, chi ha il cuore predisposto, chi crede, riceva dal Signore, ma tu, santo nome, perché tu sei degno e tu sei l'unico tempo e l'unico possibile a te, sia lodato il tuo nome, Padre, affidiamo questo culto al tuo Spirito Santo nelle tue mani, come Gesù ha detto, nulla viene da me stesso, ma dal Padre che mi ha inviato, e noi, come ha detto Gesù in Giovanni 17, come tu hai mandato me, io mando loro, affinché loro credano che tu mi hai mandato, Padre, questa è la grande opera tua, nel nome di Gesù, amè, 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 facciamo due canti qui, e dopo passiamo la parola al pastore Salvatore, lo presenti due minuti, che tu lo conosci meglio di me, amè, 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 diamo un forte applauso. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Io ti adoro, Signore, con tutto il mio cuore, intorno a te. Per dirti ti amo, per dirti ti adoro, per darti il mio amore, per darti il mio cuore, Tu sei la mia vita, tu sei la mia vita, tu sei la mia forza, Signore. Tu sei la mia vita, tu sei la mia vita, il mio cuore, intorno a te. Alla tua presenza, ritorno a te, al mio primo amore, con tutto il mio cuore. Io ti adoro, Signore, con tutto il mio cuore, ritorno a te, al mio primo amore, con tutto il mio cuore. Io ti adoro, per darti il mio amore, per darti il mio cuore. Tu sei la mia vita, tu sei la mia forza, Signore. Alla tua presenza, ritorno a te, al mio primo amore. Per darti il mio amore, per darti il mio cuore. Tu sei la mia vita, tu sei la mia forza, Signore. Alla tua presenza, ritorno a te, al mio primo amore. Per darti il mio amore, tu sei la mia forza, Signore. Alla tua presenza, ritorno a te, al mio amore. Alla tua presenza, ritorno a te, al mio amore. Tu sei la mia forza, Signore. Tu sei il fedele e il verace, alleluia. Alleluia, gloria per Signore, alleluia. Noi ti amiamo, Signore. Ti vogliamo sentire con tutto il nostro cuore. Alleluia. Grazie. Alleluia. Alleluia. Per dirti. Per dirti, ti adoro. Per darti il mio amore, per darti il mio cuore. Tu sei la mia vita, tu sei la mia forza, Signore. Alleluia. 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 Per dirti, ti amo. Per dirti che adoro Per darti il mio amore Per darti il mio cuore Tu sei la mia vita Tu sei la mia forza Signore Per dirti che adoro Per darti il mio amore Per darti il mio cuore Tu sei la mia vita Tu sei la mia forza Signore Alleluia Alleluia Per dirti che adoro Per darti il mio amore Per darti il mio cuore Tu sei la mia vita Tu sei la mia forza Signore Alleluia Alziamo le nostre mani Signore Alleluia Alleluia Cosa succede quando noi alziamo le mani Iniziamo a sentire il fuoco La presenza Delle Dio Alleluia 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 Oh Alleluia Vi stiamo facciamo Anche le mani Anche se non ho forte Anche le mani Anche se ho mille problemi Quando anzo le mani Comincio a sentire Un'unzione che mi fa cantare Quando anzo le mani Comincio a sentire Un'unzione che mi fa cantare Dove forze tu mi dai Tutto questo è possibile Tutto questo è possibile Quando anzo le mani Alleluia Alzo le mani Alzo le mani Anche se non ho forze Alzo le mani Alzo le mani Anche se ho mille problemi Quando anzo le mani Comincio a sentire Un'unzione che mi fa cantare Quando anzo le mani Quando anzo le mani Il tuo pezzi 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 Alzo le mani Un forte applauso. Alleluia, 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 gloria a te Signore, alleluia, grazie Signore perché tu Signore sei fedele e sei verace Signore, tu non manchi mai alle tue promesse, alleluia, grazie per come tu ci hai accompagnati nella lode Signore, la tua presenza è qui in mezzo a noi, noi possiamo sentire il fuoco dello Spirito salto, alleluia, Signore inonde il cuore di ognuno di noi, di coloro che guarderanno la diretta, alleluia, tocca Signore perché la tua parola Signore non ha spazio né tempo, alleluia, a distanza può penetrare fino alle profondità del cuore, alleluia, tocca Signore, alleluia, rivela la tua parola, tocca i tuoi unti, i tuoi ministri, Signore, alleluia, affinché possiamo gustare la tua presenza in mezzo a noi, nel nome di Cristo Gesù, amè, amè, e amè, alleluia, alleluia. Io volevo presentare il pastore Salvatore Fiorino che porterà la parola, però prima volevo spendere una parola, due parole, io il pastore lo conosco da molto tempo, conosco, conosco la testimonianza, conosco la opera di Dio nella sua vita e quello che Dio ha fatto e che sta facendo attraverso di Lui. Noi dobbiamo onorare i servitori di Dio, i suoi unti, i suoi ministri. Questo è un domandamento che viene dal Signore, amè, 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 perché come Giosuè fu fedele a Mosè, così noi dobbiamo essere fedeli ai ministri che Dio ha messo nel nostro cammino. Perché Gesù disse oggi mi vedrete e voi non mi vedrete più, però mi rivedrete quando verranno a voi i miei messaggeri e voi direte Benedetto è colui che viene nel nome dell'Edo, amè, 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 amè. Dio ci benedica, alleluia, 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 allelu fravanza ogni intelletto e scritto guarderà i nostri cuori e le nostre menti in Cristo Gesù, nostro Signore. E stamattina ringrazio innanzitutto l'amato nostro Signore Gesù Cristo di averci concesso di venirvi a trovare e ritrovarci una buona parte ancora insieme alla presenza di Dio. Mi ringrazio anche il pastore Gaetano che mi ha dato questa libertà ed opportunità di riferirmi a tutti quelli che ancora oggi sanno che Gesù vive. Saperlo per me significa sentirlo. Sentirlo significa viverlo. E viverlo significa proiettarlo laddove Lui non c'è, laddove Lui non regna, laddove Egli non siede al primo posto nella vita di molti. Ma stamattina Dio ci concede questa libertà perché possiamo ritrovarci nello spirito anche fisicamente perché possiamo rallegrarci di un'allegrezza celestiale. Io credo perfettamente e non ho mai dubitato che in cielo ci si rallegra solamente. Lo credete fratelli? E in cielo c'è gioia, una gioia inerfattile e gloriosa. Vorreste voi possedere questa gioia? Amén! Alleluia! Momentaneamente. Stiamo parlando di una gioia che non avrà limite di tempo né di spazio. Sì, perché avremo da fare con l'infinito. Alleluia! So che il tempo è sempre, sempre breve sulla terra, ma quando pensiamo al cielo diremo ah, finalmente, non avremo più il problema di guardare orologi, di vedere se mattina e sera o sera o mattina, poiché è scritto che il nostro Signore Gesù Cristo sarà il grande luminare della città eterna. Quindi non avremo più bisogno scritto nel libro profetico dell'Apocalisse né di sole, né di luna, né di stelle, poiché la notte non esisterà più. Mi state ascoltando? Amén! Amén! Avremo insieme un giorno che durerà eternamente. Amén! Lo stesso giorno, ma dedicarci oggi a Gesù è un affare personale. e quindi bisogna che ciascuno di noi mediti, consideri, rifletta su se stesso come stiamo vivendo la nostra vita dal momento in cui Gesù si è rivelato a ciascuno di noi. Come potremmo essere noi stamattina qui se Gesù non ci sarebbe rivelato alla vita di ciascuno di noi? Ma egli si è rivelato, si è manifestato ed ha compiuto opere stupende e di questo noi lo ringraziamo. Amén! Noi lo ringraziamo! E capisco bene che quando si è ammalati ciascuno aspetta che cosa? La guarigione! Quando si è infermi ci si aspetta di essere sanati, quando si è posseduti dal diavolo di essere liberati, quando ancora si attende il battesimo nello Spirito Santo, cosa si può attendere? che il Signore si suggerli per il giorno della nostra redenzione. Amén! Quei che scritte non contristate lo Spirito Santo col quale siamo stati suggerlati per lo giorno della redenzione. Quindi siamo tutti in attesa, io ho qui la mia amata sposa, anche lei attende un miracolo, il miracolo di ricevere la vista, perché durante la sua infermità, che dura da circa 40 anni, la quasi totalmente perduta, ma mi ricordo stamattina che quando fummo in Germania dove vige un'opera della quale sono il pastore ufficiale, quando ci svegliamo la mattina vivi la sposa mia piena di gioia, la mia gioia incontenibile, e mi disse, sai, ho sognato che ci vedevo perfettamente. Alleluia! 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 E' rimasta con quella gioia per molti giorni e non può dimenticare questa visita celeste. E quindi, essendo stato testimone di centinaia di miracoli durante il mio cammino appresso a Gesù, anche che il mutuo abbia ricevuto la parola, che il sordo abbia udito. Mi ricordo del piccolo Tony, sordo totalmente, non sentiva nemmeno i cannoni, non sentiva. Ha voglia di gridare e di che non sentiva, ma una domenica mattina disse a tutta la chiesa di Napoli, che ho condotto per molti anni e Dio ha salvato migliaia di anime per il suo regno. Disse fratelli, questa mattina le orecchie di Tony saranno storate, lo disse pubblicamente, nel nome di Gesù. Così gli miseri, gli dici, dentro le orecchie cacciai lo spirito di sordità nel nome del Signore Gesù Cristo e in quel momento le orecchie gli sono stoppate. Era un problema anche di carattere mentale, era quasi un demente. Il ragazzo e Dio si rivelò in quel tempo, ma io me lo ero dimenticato. Non tutto possiamo ricordare di ciò che esce dalle nostre latra da parte di Dio. Ma ultimamente quando mi sono sentito con sua mamma, dice, sai, Tony sta seguendo un corso per diventare chef. E' un delente. Ma come mai? Se tu ti sei dimenticato. Ma il Signore parlò per la tua bocca e disse che egli si doveva dare intelligenza e sapienza. E così Gesù è fatto. Ammè! E vogliamo dare gloria a voi, lo Signore. Così, in provincia di Firenze, perché ho scandagliato gran parte dell'Italia per l'Evangelo. E il pastore ha parlato di alcune anime qui, che si viene da lontan paese. Noi abbiamo tenuto i culti in casa, abbiamo evangelizzato gran parte del paese per una sola anima. La sorella Anna Maria. Una sola anima. Ci siamo spostati molti fratelli per diverse volte per portare la parola di Dio, evangelizzando nel paese, tenendo anche culto all'aperto. E in quel paese c'era una sorella nigeriana che aveva un bambino nato mutolo. Ma era già grande il cerve il bambino. E la sua sofferenza era grande. Ma abbiamo pregato a Gesù. Ma credete che Gesù è lo stesso? Sì o no? Ammè! Chi lo crede, alzi la mano. Ammè! Che Gesù Cristo è il medesimo. Ammè! Chi è oggi ed in ebrello. Ammè! E così abbiamo pregato. Il Signore l'ha visitato. A questo fanciullo. Sapete cosa ha fatto? Gli ha sciolto la limba. Alleluia! Alleluia! E poi si è fatto arrivare. Poi una prossima volta che ci siamo andati, la sorella sapete che mi ha detto, fratello, io ringrazio il Signore che il nostro bambino non parlava e gli ha dato la parola. Ehi, ma da quel giorno non si ferma mai di parlare. E ho detto, certo, deve recuperare il tempo in cui non poteva parlare. Benedetto sia il nome del Signore, ma di quant'è a cui potrei parlare già dal principio del mio mandato in campagna, evangelizzando casa per casa, portando l'Evangelio in qualunque spazio, contrada, utile. E se mi segui, mi seguite, potrei parlare di Gesù. Essendo entrato in una casa, negli giorni di questi giovani sposini, purtroppo il marito è ricoverato in più dell'ospedale. Lui sapeva non solo di avere una semplice uccera, ma era un tumore a morte nello stomaco. Mi state ascoltando? Amè! Fu licenziato da più ospedale. Detto, portatelo a casa, perché ormai la sua vita è contata su giorni. Così, una notte, questo, cadde dal letto a terra, come morto. Lui non lo sapeva di avere un tumore, solo di un uccera. Così mi chiamano la notte, faccio a mille orari, vado direttamente sul pronto soccorso di Aversa. E entro lì, disteso, come morto, detto a sorella, abbiamo un Dio molto, molto per noi. Ed egli può tutto. Amè! E noi in questo giorno preghiamo per tuo marito. Nel nome di Gesù, mi ha posto le mani sullo stomaco, dove c'è il tumore. e cacciai quello spirito di morte. Nel nome di Gesù, il Signore. Amè! Il Dottor, rifarti tutti gli esami e ti renderai conto che il Signore lo ha saluto. Amè! 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 Il Dottor, rifarti tutti gli esami, da capo, dal primo all'ultimo, i medici sono rimasti sbalorditi, hanno detto, ma c'era, ma c'era qui, è più un ospedale che rende testimonianza del suo tumore a morte, ma noi non lo troviamo più! Amè! 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 Alleluia! Amè! Amè! Che quanti altri miracoli è in Germania dappertutto, il tempo è corto, ma voglio in questa mattina darvi la mia povera mano d'aiuto. Alleluia! Fratero mio, sorella cara, non abbandonarti mai a te stesso, a te stessa. Abbandonati nelle braccia meravigliose del Signore Gesù. Amè! 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 Si prende la cura di te! Amè! 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 Si prende la cura di te! Amè! Amè! Ti devi confessarlo apertamente, perché viviamo in un mondo di tenebre, in un mondo dove vige la lussuria, i peccati contro la dura, l'omosessualità l'appegoti via. Mi state ascoltando, il crimine della violenza assassina. E io parlo di Gesù dappertutto apertamente, nelle poste, banche, bar, centri commerciali. Non lo faccia apertamente, non... E il Signore ha detto che ha orecchie da udire oda. Amè! E entrando in un certo bar, vede una ragazza, poteva avere i suoi 25 anni, e la vedevo triste, molto triste, non sapevo di cosa si trattasse. E gli disse, gira di qua, non c'è bar, gira di qua. L'alto finale del bancone, detto dammi la mano. Signore, non so di cosa si tratta adesso, tu me ne occulti la ragione, ma c'è un problema grave. Nel nome di Gesù, io caccio questo potere demoniaco da questa ragazza a cui già avevo parlato di Gesù, perché sia liberata. In quel momento del suo par, ho finito di pregare, dopo alcuni giorni la rivedo sorridente. E che è successo? Chi mi segna? Vieni qua! Io ho pregato per te, ma non sapevo di cosa tu soffrissi, quale fosse il tuo problema. Dimmi, di cosa si tratta? Eh, signor Fiorino, si tratta di questo, che io ero fidanzata ad un fidanzato. Non mi fate mai ingannare quando si dice pubblicamente radio e televisione che sono nati omosessuali nel campo femminile o maschile. È una menzogna di sé. Amén! State ascoltando? Amén! Dice, io amavo tanto il mio fidanzato, ma così tanto che già avevamo programmato il giorno del nostro matrimonio. Ma cosa è successo nella mia vita? Mi sparì persino un appetito, perché non sentivo più l'attrattiva verso il mio fidanzato, ma verso altre donne. Mi state ascoltando? Amén! E lei si dimagliva sempre più, la mamma non sapeva cosa fare. Ma che ti è successo? Ma come mai ti stai riducendo così? E il problema è questo, che io non amavo più il mio fidanzato, ma amavo le donne. E dal momento in cui lei ha pregato per me, il Signore mi ha liberato. Amén! E lo seguito è sponte! E sono ritornata ad amare il mio fidanzato! Amén! Ci siamo pure sforzati e poi hanno avuto una panciolina! Torniamo alle glorie al Dio e alla potenza di Dio e senza limiti! Alleluia! Alleluia! Ma quanto mi potrei raccontare Dio e Dio di mia? Alleluia! Vogliamo ringraziare il Signore Pastore Gaetano, per favore, se mi puoi prestare un attimo di attenzione, perché io amo essere sottomesso agli uomini di Dio che detengono la responsabilità dell'opera. Dimmi quanto tempo posso avere? Tu quello che avete, quello che il Signore mi dà? No, io ho la delicatezza, non ho mai approfittato della volontà dei nostri fratelli, degli uomini di Dio, Dio sempre amato, dal principio, come ha detto il fratello, superio, mi sono sottomesso all'autorità di Dio, negli servitori di Dio. Amén! Non ho mai ambito i pubbiti, mi credete? Amén! Io sono nato nel ministerio da missionario e quindi in lungo e largo, senza tempi, gli orari, gli orari per noi non esistevano comunque, c'era una consacrazione continua a Dio, di giorno e in piena notte, stare ore davanti al Signore e diceva fratello Saverio, e il digiuno per noi era il pane quotidiano, ah, io mi sei caro, chi le rigida si parlava sempre di digiunare, beh, ma questo ci fa che va bene, perché sì, no, margolini va bene, ma la potenza di Dio non era margolina in noi, non è che si leggeva per i miei apuri in piedi, gloria a Dio! Amén! E se io vorrei parlare della mia vita missionaria dal principio, quanto tempo avremmo? E' un sogno! Beh, vorrei che stamattina voi vi rallegraste nel Signore, vedi, approvate, chiamate! Alleluia! Ralleghiamoci nel Signore, forza! Forza! Glorite, mio Signore! Paolo era in catene, in catene, eh? E' sorvegliato da un soldato romano, come poteva sortare le chiese perché si rallegassero nel Signore? Ma lo siete voi domandati, voi che stai in catene, capite? in attesa di una sentenza finale, e la seconda fu quella mortale, gloria a Dio! Amén! Ma egli esaltava la chiesa di Filippi di Tessalonica perché si ralleglassero nel Signore! Amén! Se vogliamo rallegare al Signore, lo diamo! Ma chi si rallegga cosa fa? Stai con un musone, no, non suona l'ippopotamo, no, no, come stai, come stai, vediamo, con il sorriso, vediamo, frate, allora, provaci almeno, sorridi per Gesù, ah! Sorridi per Gesù, Gesù ci ama! Ah! 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 benedetto sia il nome del Signore! Noi dobbiamo godere la presenza di Dio a pieni mani! Non abbiamo paglia nelle nostre mani, né sieno! Mi state ascoltando? perché siamo paragonati come del buon frumento che il Signore ci pone nei Suoi granari! Alleluia! 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 Lo vogliamo ringraziare, avanti! Amén! Sorridi che Gesù ti ama! Alleluia! Io vi buongiorno, ah! Vi buongiorno! C'è qualche boccucce? C'è il silo! Alleluia! 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 Ho girato molte nazioni, sono stato anche in Lapponia, a 600 km dal Polo Nord, a portare la preziosa parola di Dio. Amén! Sono stato molto in Africa, e vi ricordo, poi vi leggo la parola, non voglio trattenerle molto, perché è la domenica, capite? forse è pronta la gente, l'ora è di tutti, scusate se io a volte l'ho preciso, perché molti hanno più la testa, la testa dentro la pentola, che bolle, mentre quello gli cala la pasta, e prepara il sugo, perché, all'ascosto della parola di Dio, non sono d'accordo. Benedetto il nome del Signore! Amén! Diamo tutti di grazie a Gesù! Amén! Amén! E' un giorno di festa! Amén! E quando c'è festa c'è gioia! Amén! Quando c'è festa si danza! E' una presenza di Dio, come Davide, davanti all'arca dell'Onnipotente! E la sua mogliettina, Micol, gli disse, ma come ti sei ridotto, ma tu sei, ma tu sei, il meno dei meni, di tutti i tuoi serbi! E disse Davide per me, questo è un inizio, perché io mi umilierò, sempre più, davanti al Signore, e che mi odio a Dio, non ha scelto nessuno, della casa di mio padre Saul, ma ha scelto me, perché mi ucessi, in istruvere, il popolo di Dio! Alleluia! E lo continuano a me! Diamo delle grazie al Signore Gesù! E' così! E essendo in Africa, in costa d'Avorio, e lì si evangelizzava dappertutto, o mentre avanti, anche per le strade, si dava l'ode a Dio, e senza che tu te lo aspettassi, dietro a te, molta gente che, intonavano pure la loro voce, dando, gloria, al Signore! Ma che? Ma pure, per non ciò di me, mi gioca nella casa di Dio! Io dicevo Alleluia! E ti sentivo, con, con gran voce, dietro di me, Alleluia! ho detto, ma questa sì che è bella! Amen! E così un giorno il pastore, con un figlio mio spirituale, che è stato anche in Italia, li portò in un ospedale, un grande camerone, tutti malati a destra, e malati a sinistra, e io gli parlavo di Gesù, li facevo da interprete, perché gli parlano la lingua francese, è stata una colonia francese, e parlavo a tutti gli di Gesù, ma non li lasciavano così, dopo aver parlato di Gesù, se sono ammalati, pregavo tutti loro, e che il Signore li guarisse, senti, tutti, li ho evangelizzati a tutti, e su tutti ho pregato, il pastore sapete che sta a fare, il Signore, voglio ritornare per l'ospedale, per sapere un po', per quei malatucci come stanno, no? Parla con il direttore, dell'ospedale, e già sono in quell'androne, non li vede più quei malati, ho detto, ma il direttore, ma cosa è successo? Ma quei malati che abbiamo visitati qui, quando il pastore appena ha pregato, soprattutto i malati, dove sono? Sì, dove sono? Sono tutti a casa, perché sono stati compiti, guardate il Signore, vogliamo fare gloria al Signore, Dio sia un altro, e peredetto in eterna, la potenza di Dio si manifesta dappertutto, dove il Signore opera, glorifica il suo nome, e noi stamattina cosa vogliamo fare? Avanti! Cosa vogliamo fare? Tu lo sai sapere? Glorificare il suo nome! Ha visto che lo sai? Tu lo sai? Tu lo sai? E non lo facciamo perché non lo facciamo! Amén! No, no, no! No, no, no! No lo sai sapere! No, no! No lo sai sapere! Alleluia! Gloria al Signore! Gloria al Signore! Gloria al Signore! Non ti sapere! Troppo così! Che Gesù ha detto, venite a me! Voi tutti che siete trabagliati stanchi, volete sapere, stamattina io mi reggevo, per il piramolo sull'impiede, e perché ho lavorato tutta la vita per il Signore, la famiglia e il prossimo! Non mi sono mai calmato in vita mia! Alleluia! Con un fattore di carne e ossa detto alla mia sposa, Anna, stamattina, non mi regalata all'impiede! Ma quando sono davanti al giorno di Dio riprendo una forza che prenderei certe persone anche di un certo peso non mi regalata! Alleluia! Alleluia! Vabbiamo a dire gloria a Dio! Alleluia! Vabbiamo a dire Signore! Dio sia ringraziato! Dio sia elevato! Vabbiamo a dire e grazie a Gesù! Grazie a Gesù! Alleluia! Voglio leggere qualcosa della scrittura per lasciare spazio al pastore Dio ha deposto un mare di messaggi dentro di me durante questo periodo Dio si è rivelato in modo stupendo ma una di queste rivelazioni ve la voglio lasciare Amén Amén Primo ottobre del 2022 prima di partire per la Sicilia dove ho avuto una missione veramente super gloriosa di notte il Signore mi mostrava che da un punto destro e questo punto destro che io guardavo uscivano delle persone da un luogo di tenebre e li vedevo tutti nell'ospurità mi state ascoltando Amén Stiamo pregando che il Signore salvi il salvabile che recuperi il recuperabile mi state ascoltando Amén e quelli che si sono allontanati da Dio perché ritornino a Dio Amén e nel tenervi in riposo e nel tornare a Dio sta la vostra salvezza Amén e vedevo queste persone che uscivano da questo abilinto tenebroso e gli dicevo ad alta voce affrettatevi non è tempo più di dormire spiritualmente bisogna che torniamo a svegliarci vi state ascoltando Amén risvegliati che dormi risorgi dai morti e Cristo ti inonderà Amén per me sull'unice Amén Amén Alleluia affrettatevi affrettatevi a fare che cosa a tornare al Signore ad umiliarvi sotto la sua mano potente a pentirvi di tutti i vostri peccati fate presto a riconciliarvi con Dio Amén Alleluia state ascoltando Amén di seguito dicevo perché il Signore gridando il Signore tornerà Alleluia Dormerà 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 Dio se ne è portati molti in cielo durante questo periodo mi ricordo anche di un giovane sposato circa 30 anni e il Signore aveva rivelato all'uomo di Dio il nostro pastore generale che Dio aveva pensato di prenderselo con sé perché lui è il padrone del campo. Quando desidera staccare uno dei tanti fiori del suo campo lui è il padrone e li prende quando vuole e in quella notte il giovane che amava tanto Gesù questo ve lo devo precisare amava tanto Gesù. Il fratello Enzo venia e cantava sempre del cielo aveva la voce di un un signoro cantava sempre del cielo un'ispirazione interiore suonava la chitarra e cantava del cielo. Una notte gli venne meno il respiro gonfiò venne nero come il carbone batta a terra e il Signore lo prese con sé. Capite? Capite? Amore della mondo eccetera. Amore di un piatto era grande. Ma il Signore mi diede un sogno rivelatorio. durante la notte vidi un porto un porto che era tutto bianco mai ho visto un porto di mare tutto bianco, tutto, tutto bianco la banchina, tutto nave, era tutto bianco e io salvo in una di queste navi e c'erano delle sedie messe in fila per ordine all'aperto all'aperto come se era una grande terrazza ed io passai in una di queste file e mentre passavo in una di queste file vidi il fratello Enzo Vegna e gli disse senso ma dove che dovete andare? con questa nave sapete che mi ha risposto siamo erano tutti giovani ben vestiti e leganti perfettamente siamo in partenza per il cielo alleluia mi stanno ascoltando amè amè vogliamo dire grazie a Dio grazie a Dio grazie a Dio sì signore grazie grazie a Dio non è minuto alleluia non è spalma adesso stiamo perdendo tempo siamo in marcia per il cielo alleluia e noi non vogliamo perdere questo appuntamento con il Signore Gesù perché lui ci ha fissato il giorno e l'ora amè grazie a Dio andiamo a rilasciare Gesù grazie a Dio mi alzato solo un attimino per sgattirvi in presenza di Dio leggiamo in Luca capitolo 13 i primi versi da 22 a 30 cosa vogliamo dire? il Signore sia l'orato non amè lo dovete ripetere il Signore sia l'orato e benedetto il benedetto Poi egli andava attorno per la città e per i castelli insegnando e facendo cammino verso Gerusalemme ora alcuno gli disse signore sono egli non pochi coloro che sono salvati e lei gli disse loro sforzatevi di entrare per la porta stretta perché perché io vi dico perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno ora da che il padron della casa si sarà levato e l'avrà serrato l'uscio voi allora standoti fuori comincerete a picchiare alla porta dicendo signore signore aprici ed egli rispondendo di di là io non so da dove voi siate allora prenderete a dire noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze ma egli dirà io vi dico che non so da dove voi siate dipartitevi da me voi tutti gli operatori di iniquità qui vi sarà il pianto e lo stridore dei denti quando vedrete Abramo il sacco e già per tutti i profeti nel regno di Dio e che voi ne sarete cacciati fuori e che ne verranno d'Oriente e d'Occidente e dal settentrione e dal mezzodì i quali siederanno a tavola nel regno di Dio ed ecco ve ne sono degli ultimi che saranno che saranno i primi e dei primi che saranno gli ultimi andiamo a dire Amen alla parola di Dio Signore grazie perché tu scompisci con il fuoco la tua parola dentro i nostri cuori perché per essa tu ci hai aperto le porte del cielo e noi ti ringraziamo perché fino oggi non ce li hai serrate ma di serrate le porte del cielo hai versato su di noi le piogge ed è la prima e di questa ultima stagione non ci mancheranno perché saranno piogge come dice le vitture del profeta Ezechiele piogge di benedizione noi vogliamo rinno saluti pari vogliamo lottare per Gesù Signore nostro bene venite a vedere amè amè accomodatevi sarà molto breve bene fratelli avete tutto il tempo sì bene ringraziamo il Dio perché abbiamo invocata una via stretta molto angusta così come noi la porta che ci darà l'introduzione la porta è Gesù la via è Gesù ci darà l'introduzione di angiare nel suo regno ecco perché è scritto cercate prima il regno e la sua giustizia e le altre cose vi saranno sovraggiunte quante cose Dio ha sovraggiunto a quelle che hanno cercato in primis il regno di Dio e la sua giustizia Dio ha sovraggiunto molto non ci ha dato solo il pane quotidiano mi sta trasportando ma ha provveduto molto di più per noi così preghiamo che Dio provveda a quanti in tutta la faccia della terra sperano in Dio e noi vogliamo essere la sua mano propita verso il povero il bisognoso il diseredato l'ha abbandonato mi state ascoltando amè perché quando l'avrete fatto ad uno di questi miei minimi ha detto Gesù voi l'avete fatto direttamente amè alleluia mi state ascoltando amè alleluia si ha ringraziato oh questa via così tutta strettoie ma da dove le può prendere di qua non si può di là non si può ma da dove le può prendere è sempre dritta come non è storta mi sono molte dire che dice il libro dei proverbi che all'uomo faremo per le chiuste ma alla fine portano alla morte noi abbiamo scelto Gesù che ha detto io sono la via l'ha imbottata questa via sono la via e non è rimasto la via dal principio perché molti se ne sono rallegrati dal principio sai io non sapevo nulla di Gesù ne avevo sentito parlare solo religiosamente a volte mi facevo pure qualche preghierina sai padre se sapessi io ho la coroncina del rosario e riconto un di quanto ne hai fatto ma non me ne riconto neanche il numero mentre tu fai la coroncina del rosario che è nata la coroncina del rosario è nata nel mondo islamico e la presa pure la chiesa cattolica uno due tre ma la loro mente dov'è 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 non c'è alla presenza di Dio e poi guarda il capellino e va ah quanta be' maria c'è sapere c'è la mia madre la purata madre ma dimmi un po' padre non ce l'hai c'è solo la madre ma noi siamo nati da un padre e una madre mi state ascoltando amè amè adorano la creatura dice Paolo l'Apostolo nello servizio dei Romani capitolo uno hanno preferito piuttosto di adorare la creatura e non il creatore che è benedetto in eterna amè amè alleluia e lui ci fa di tutto ci fa di pagio di magio di fratello di amico mi state ascoltando amè alleluia perché disse non vi chiamerò più servitore perché i servitori non sanno tutto della casa del loro signore ma vi chiamerò miei amici ma perché lì quando mi dice a volte vale più un amico sincero che un fratello sovannominale noi non vogliamo essere fratelli nominali fratelli perché Paolo pure parla di farsi fratelli ma lo vogliamo essere davvero mi state ascoltando amè Gesù disse come io ho amato voi amatemi gli uni e gli altri mi piace che ci amiamo fratelli si fratello Betano io amo il fratello Betano e Gesù ti benedica amè amè per ognuno di voi li amo nell'amore di Gesù anche se è la prima volta che ci conosciamo ma non dimentichiamo i veri fratelli quelli che hanno addirittura esposta la loro vita per amore di Gesù l'hanno messo al primo posto non l'hanno mai rinnegato non tanto meno si sono vergognati di lui perché chi si vergognerà di lui in quel giorno lui si vergognerà di presentarci davanti al Padre e ai suoi santi ange mi state ascoltando amè così chi lo rinnegherà sarà rinnegato infatti abbiamo detto io non so da dove voi venite o chi siate alla fine gli dite il giudizio finale perché voi siete stati solo degli operatori di di iniquità ti state ascoltando amè amè e noi stamattina vogliamo ringraziare Gesù alleluia alleluia satana è stato cacciato dal cielo alleluia non viene dai fondali della terra mi state ascoltando amè che mentre era lì l'inferno Dio non l'aveva creato ma l'ha creato per lui i suoi angeli e per tutti quelli che seguiranno il suo esempio quale quello quello dell'orgoglio della ribellione della vana gloria faranno la stessa legna gloria Gesù amè il mio clamo prescritto di che l'umiltà precede la gloria di tutti gli uomini possono essere i re principi e grandi della terra e nobili ricchi che umile la gloria adesso li supera tutti ma l'orgoglio precede la rovina stiamo attenti a questo spirito ho avvertito sempre perché ho condotto un'opera nella quale insegnavo a molti giovani che intendevano servire Dio quale fosse la loro giusta scelta e quale decisione prendere se è quella dell'umiltà che in Cristo dobbiamo apprendere perché è scritto cosa è scritto Gesù cosa disse siate mansuete di cuore ammè 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 alleluia grazie a Dio e ha detto imparatelo da me perché lui è il maestro e il vero alunno discepolo scolaro deve saper imparare da Gesù che è umile e manzietto di cuore ammè chi vuole servire Dio deve restare piccolo alleluia perché se pensa di diventare sempre più brandicello alleluia sempre più brandicello appunto di dire non ho più bisogno come molti dicono ma il Signore è il mio pastore e che ce lo devono dire a noi che il Signore è il nostro grande e il sommo pastore ma chi gli ha costituito i pastori nella chiesa io il pastore Gaetano Gesù è gli stesso dato agli evangelisti altri profeti gli state ascoltando altri profeti e altri pastori e dottori per lo perfetto adunamento dei santi per l'edificazione dell'intero corpo di Gesù Cristo gli state ascoltando e molti pensano di non averne bisogno noi abbiamo bisogno di una vita visibile sulla terra che ci conduca davanti a Dio che ci esprima la parola di Dio che ci consente di ascoltare di orare di orare con il Dio e ci fa la potenza di Dio e tutto il profondo ben detto signore signore ho pensato che essi ne hanno fuggiato sì io l'ho pensato sempre infatti sono stato a fianco all'uomo di Dio per venti lunghi anni abbracciando molte responsabilità nell'opera del ministerio oltre a curare chiese campo evangelistico tenda di evangelizzazione condurre i giovani davanti a Dio che fossero chiamati al ministerio mi stanno ascoltando offrendo anche le nostre spalle e queste piccole muscoli al servizio di Dio lo stanno portando sì facendo i lavori più umili che si possono immaginare cantare l'esempio a tutti quelli che avrebbero avuto in cuore di servire il Signore che con la presenza di Dio la mattina dentro il Pinto Santo che mi parla ad una a Dio che mi diventa il Signore alleluia chi vuole essere il maggiore di tutti sia il servitore di tutti questo fatto per dare un esempio e Gesù ha dato un esempio li mise tutti a sedere si tolse la sua veste di sopra si cinse d'un asciugatoio si piegò fino ai piedi chi l'avrebbe fatto egli è il Signore e l'Unipotente il padrone dell'Universo che si piega fino ai piedi gli suoi discepoli gli toglie i sandali e i piedi non erano pulitini gli state ascoltando perché si camminava sulla polvere anche del deserto delle strade tutte sdrucciose toglie mette dentro la bacinella e li lava a un amore alleluia alleluia persino di giuda e doveva tradirlo anche lui gli ha lavato i piedi amè 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 hai fatto da me e tu non mi lavrai mai i piedi anche tu non c'ho mai giova di piedi a me ma che dice signore ma non so se era un uomo qualunque gli avrebbe detto ma tu sei normale non so ma egli sapeva che era il signore e disse signore voleva dirvi voleva dirvi non c'è un uomo che tu faccia questo verso di me signore non puoi farlo e Gesù disse se io non ti vado i piedi tu non avrai parte alleluia alleluia e lui disse signore non so le piede ma non gli avrebbe mano e lui ha detto e Gesù del signore si cagliato in piedi e tutto netto amè alleluia ora voglio dire grazie a te perché mi ha detto il nome del signore alleluia e disse voi mi chiamate maestro il signore io lo sono ma se io con il maestro il signore mi ho lavato in piedi a tutti fate presto io mi ingresso alleluia mi state ascoltando mi seguite la parola di Dio si radichi dentro di voi vi ricordo che il seme caduto in buona terra ciò significa in un buon cuore porterà frutto dove gente è stata eccetera alleluia se con sofferenza ma porterà frutto tu vuoi essere fruttoso o il frutto guardiamo fruttoso vuoi essere sì allora tazze da fare perché vengono qui alleluia portare a tuttare lì vedere chi passa chi entra chi esce scendi giù e cominci a parlare di Gesù a quanti parlo di Gesù a una ove sento la presenza di Dio quando lei mi parla di Gesù io mi sento un'altra persona sento che qualcosa di vivente si muove dentro di me e questo è lo spirito del Signore alleluia alleluia porta stretta vi angusta e molti cercheranno di entrarvi ma non potranno beati invece quelli che già vi si trovano stai attenta perché se torni indietro come la mongia di morte sarà la nostra fine per sempre alleluia l'otte fu obbediente agli angeli di Dio con le sue figlie la moglie perché non fu obbediente perché lei uscì col corpo da Sodoma non uscì col cuore e molti molti che confessano la loro fede in Cristo ascoltatemi bene non sono usciti dal mondo e dalle sue concupiscenze mi state ascoltando e quindi dai suoi piaceri dalle sue vanità e bruttà sono usciti col corpo per un certo tempo ma non col cuore il loro cuore rimasto nel mondo mi state ascoltando ma ma quelli che esponì invece col cuore la loro vita viene trasformata il giorno in giorno per giungere e corrisare corrisare alleluia il corpo perfetto e glorioso del Signore Gesù Cristo quindi la sua misura e la sua statura amè diamo di grazie al Signore grazie oh sentiamo la presenza di Dio siamo a te sentiamo l'unzione di Dio vediamo chi sente la presenza di Dio amè lui la sente amè alleluia 2% 1% di Dio alleluia alleluia gloria alleluia viva 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 oh Gesù makes you praise him to me my God hallelujah lo vediamo l'unzione stamattina amè 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 de la benvenzione de la bontola doce alleluia alleluia amè amè alleluia et alleluia di il essere at l'unzione del Signore gloria e fila di più es purtro santo oh 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. Gesù con il suo corpo, inchiodò i nostri peccati, la nostra malattia, dolore e infermetà e al terzo giorno fu risorto per risorgere con noi a una nuova vita, nuova creatura, perdonando per essere perdonati, amando come Lui ci ha amato e dando un messaggio di buona novela, un messaggio di salvezza, di speranza a chi non ce l'ha e a quelli che si umiliano vengano al Signore e ricevete dell'amore e della grazia del Signore perché Lui è giusto e buono e santo e lo Spirito Santo parlerà al vostro spirito, trasformerà l'anima, correggerà ogni cosa e vi liberarà nel nome di Gesù, perché pagato è stato il prezzo, un caro prezzo. ma risolto per la gloria del Padre. Così, fratelli e sorelle, ringraziando al Signore adesso, che la pace del Signore e la gioia rimangano in voi. Come sta scritto in Atti degli Apostoli, capitolo 8, verso 7 in poi, che dopo che fu battesato l'Enuco è l'Etiope, Filippo lo battesò e l'angelo lo rapì e lo portò a un altro luogo, nell'aria. E dice che l'Enuco se ne andò in serralegrò un cuor suo, seguendo il suo cammino, con la gioia del Signore nel cuore perché aveva ricevuto il Salvatore, Cristo Gesù. Gesù non è morto nella croce, non è rimasto lì. Lo hanno sceso, lo hanno portato alla tomba, però il terzo giorno fu risorto e Lui è invenso a noi, Lui è con noi. Come Gesù ha promesso, sarò con voi, ma verrà lo Spirito Santo e parlerà a voi ogni cosa. Ascoltate, io e il Padre io rimarremo con voi per sempre. Dio sia lodato. Dio sia lodato, per la grazia del Signore e per il sacrificio di Gesù. Andate con fede, avete ricevuto la parola per fede? È stato predicato per fede? E voi trattenete questa fede, non perdete la fede. Che quello che avete ricevuto oggi non cada per terra, che rimanga nel vostro cuore. Come dice Giovanni, capitolo 14, versetto 15-16. Se voi mi amate, se voi rimanete nella mia parola e la mia parola rimane in voi, farò ogni cosa. Non vi lascerò orfani. Il Signore ci ama tutti. Impariamo a amare il Signore. Che il Signore vi benedica. Dite con me Dio sia allorato. Dio sia lodato. In nome di Gesù Cristo. In nome di Gesù Cristo. Grazie al Spirito Santo. Grazie al Spirito Santo. A me vi ammettate un po' di applausi al Signore. I applausi a tutti alla prossima volta. Penso che non so quando partirà il papà, quando venire andrete. Allora vogliamo il pastore Salvatore? E ancora Adila. Ah. Quando viene il pastore Salvatore, qua c'è la pastore, la moglie, la sorella Anna, che lei ha seguito il suo marito nel ministerio per più di 40 anni. Fino a oggi e ancora deve non percorrere la terra servendo al Signore. Io so che il Signore farà miracoli in loro ancora di più. Alleluia. Il pastore Salvatore ha visitato più di 22 nazioni. Per quanti anni che serve al Signore? 58 anni. da quando ha dato la sua vita a un ragazzo molto giovane. E fino a oggi servendo al Signore per tutto il mondo come missionario. Dio è buono. Dio non dimentica mai. Dio è fedele con i suoi fedele. Chi li crede al Signore. Chi li crede al Signore non sarà lasciato orfano. Quando Dio chiama, Lui non manda via. Il Signore non manda via nessuno, a meno che ognuno se ne vuole andare via. Dice la parola che se tuo padre e tua madre ti abbandonassero, io ti raccoglierò. Dio ti raccoglierà. Non c'è nessun orfano sulla terra. Perché Dio è padre. Dio è padre. E se tu sei il figlio di Dio, non sei orfano. Lascia stare come se vive nel mondo. Il mondo è nelle tenebre, nell'oscurità. Però Gesù è la luce. Chi fu mandata dalla fonte, da Dio padre. Gesù è padre eterno, Dio potente, il San Latore. E noi siamo stati fatti per Lui attraverso di Lui. Gesù ha detto voi siete la luce nel mondo. Non vi nascondete. Illuminate. mettetevi in alto. Che tutti vedano la vostra luce. Non abbiate vergogna del Signore per quello che diranno. Perché chi si vergogna del Signore, il Signore si vergognerà avanti degli angeli di Dio, della persona. Il Signore lì dove siete vi tocca, vi guarisca, riempie il vostro cuore. Tocca la mente, l'anima, lo spirito che vi dia sapienza, intendimento e discernimento. Alleluia. E voglio ringraziare insieme a voi per il cibo, l'acqua, il frutto, la sorgente, la salute che abbiamo, la possibilità che abbiamo avuto anche oggi di ascoltare la parola, di ministrarlo e di servirlo. E il giorno, un nuovo giorno, ogni giorno è un privilegio, è un miracolo. Perché la gente sta morendo e tu ancora cammina. Ragazzi di 12, 13 anni, 15, 20 anni, neonati, qualcuno sta morendo e l'altro ancora vive sulla terra. Dobbiamo ringraziare. Nessuno sa quando arriverà il giorno. Però tutti sappiamo che ogni giorno è un miracolo. Il che proviene e la vita è Dio. Allora ringraziamo Dio per ogni giorno. E se tu sei forte e stai in salute e l'altro è malato, tu cammini e l'altro è paralitico, tu vedi e l'altro è cieco, tu stai ascoltando bene e l'altro è sordo, tu puoi parlare e l'altro è muto, tu sei sano, un altro ha delle malattie e sta lottando per vivere. E tu che hai la forza, con la tua salute ringrazia Dio e prega per uno malato, per un bisognoso. Non essere come la bestia, come gli animali. Diventa veramente essere umano. Te devi interessare la vita del prossimo, perché la parola Gesù ha detto per i cristiani. I cristiani, solo i cristiani possono fare questo. ama il tuo prossimo come a te stesso. Ama il tuo prossimo. Impara a amare. Se non lo sai cerca Dio, Dio è l'amore. Senza Dio nessuno può amare. Si può volere bene, però non è lo stesso amare. Io voglio che quando il pastore Salvatore, la sorella Anna, il suo figlio che tornerà a Germania, dopo ritornerà in Italia. A ieri abbiamo presentato ufficialmente il fidanzamento di Stefania e nel fratello Daniele, lui è il figlio. Daniele Fiorino, figlio del pastore e la sorella Anna Fiorino. Bene. E lui andrà in Germania perché lavora lì, tornerà. Il pastore è dove? A Napoli? Quale parte era? Vicino a Napoli. Vicino a Napoli. Provincia di Caserta. Bene. Un giorno tornerà. Ci visiterà. Avremo il privilegio di condividere, di mangiare, di stare con lui. Oggi abbiamo avuto questo privilegio. Alleluia. Prenderemo un caffè, quello che c'è, un dolcetto, quello che c'è, che il Signore lo benedica. E vogliamo mandare, sia in Germania, che dove il fratello Fiorino e dove vada per il mondo, perché poco fa è stato in Catania, in Sicilia, Palermo, eccetera, che lui manda il nostro saluto. La Chiesa Cristo salva. I fratelli conservi di tutti i fratelli che stanno in tutto il mondo, con i suoi unti, i suoi pastori, i suoi diagoni, i suoi collaboratori, fratelli e sorelle, piccoli e grandi in tutto il mondo. Siamo più di due miliardi e mezzo. Che il Signore li benedica. Che il Signore benedica il suo popolo. E il suo popolo benedica l'Eterno. E Cristo è Gesù. Diamo un forte applauso. E questo applauso serva anche per la famiglia Burino. Quando rientrano, sono i nostri fratelli, i nostri amati cari fratelli. Con servi, ministri è la parola, danni. Che il Signore benedica dove loro mettano piede. Amen. Così sia con voi. Ognuno di noi è un strumento di Dio. E un ministro è la parola. Non taccete mai. Proclamate il Regno perché Cristo viene. Proclamate il Vangelo, non abbiate vergogna. Non con troppe parole. Uno non deve essere un saputello. Tu quello che hai creduto dichiaralo. Confessalo. Perché in Romani 10 dice Chi crede nel cuore confessa con la bocca che Gesù e il Signore gli ha risolto. Sarà salvato. Crediate. E se qualcuno non sa, si burla, non ti preoccupare, spiegami. Dile al Signore che tocca il cuore di quella persona, di quel ragazzo o ragazza, dell'anziano o l'anziana, del ricco o del povero. E tu apri la bocca, con discernimento, senza litigare con nessuno. Ricordale ad ogni creatura che Gesù lo ama. Gesù lo ama. E quando è di Gesù, ascoltano la voce e tornano a Cristo. Solo quelli di Cristo tornano a Gesù. Quelli del mondo che sono del diavolo non torneranno mai. Perché non solo non possono tornare a un luogo che non ne appartiene. Però quelli di Dio, i figli di Dio che sono dispersi, torneranno alla voce del Signore. E il cristiano serve Cristo. E il mondano serve al mondo. E l'atio che non crede serve anche al mondo. Però il cristiano, il vero cristiano, serve Cristo. Segue la sua voce e va indietro a lui. Dio si ha lodato pace e buon appetito. Pace a tutti, buona giornata. Che il Signore benedica a tutti che ascoltano. Amen. Amen. Nel nome di Gesù, pace del Signore. Alleluia.